Una par che adesso ci aspettano dei droidi nella prossima stanza, quindi andiamo avanti, andiamo avanti Sai che qua c'è un boss Da una fermazione di questa scena, in questa caso si prevedono sempre i soliti drop di FPS Esatto Ok, che cazzo è questa boss Con i droidi attacchiati morti, in un boss E' il suo reame, mi sapevo Ma qui, in questa caso, non ci sono effettivamente macchine del genere Ok, la parte sopra è quella che possiamo attaccare, potremmo fare Sennò non ci possiamo avvicinare perché ha dei meccanismi di difesa Dobbiamo prima vedere quali sono le sue tecniche Per farvi capire la portata, la difficoltà di questo scontro Intanto iniziamo a curarci Perché 72, 42, dai dai Basta troia Mi devono pensare Oh, invece no Non mi fa voi, perché ho messo immediatamente Difficilissimo ragazzi Non vorrei ricominciare da capo Prendiamo dei recuperi A panico Ok, non full life Oh, basta Ah, non riesco a muovere la visuale Bene Ok Troppo veloce per muoversi in visuale Ma quando è attacchiato Non mi si può fare niente Non si può sparare Non si può avvicinare Dopo non si rilancia delle bombe A panico Ovunque Va ricaputtando Devo poter creare in amici Questi foggi Del cazzo Mi riesce a tenere la visuale Fossata sull'obiettivo Non vedo una sega Cos'è sta visuale? Cos'è sta visuale? Cos'è? Devo fare Non lo so spivare Impossibile Non ci possa una sega Non c'è niente di niente È vero Proprio E' giustamente Se siano alto Basse Queste cose Non ci possa una sega Di niente Se sento una visuale Ok Grazie Di questo visuale Finalmente Puoi ridere Giustamente Perché Valla ad affrontare Una sega E dovrei affrontarla Non sparandogli random Zero di carte Oh vabbè Vabbè Avvia la manomissione Cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Devo fare? Cazzo di Che cosa dovrei Ah ok Non spara in realtà Non so cosa fare Non so cosa debba io fare Perché Perché spara solo In alcuni casi A cazzo di cane Sto premendo il tasto sinistro Del mouse E il tasto destro Anche Ah col tasto destro Spara un po' Ogni tanto Ogni qualvolta Ah insieme Sia il tasto destro Che il tasto sinistro Spara Insieme Insieme Completata In game Ok Ok C'erano Mi ha dovuto uscire abbastanza Sicopatica Ma l'ho predetta Ok Questi torneri in vita Di androidi Ui Non credo 2 beat Sto detecendo Black box Signali Sì Sono morti Sì Sono tornati In viaggi Ok Questo finisce Ora Non c'erano Prima che ritorno A diventare arte Ho capito Che dovrebbe essere Con l'ascialto Come non ho fatto Non c'erano In questo visuale Cosa Comprenda Perché veramente Questi visuali Non stanno Né in cero Né in terra Non si capisco Un cazzo Oh Visuali Di nerd A su Tutti Di manometterci Io vorrei avere Una visuale Please Ah ok Con la rotellina Possono usare Cature Ingestibile Ingestibile Questo visuale Ingestibile Ragazzi Veramente Guardate La visuale Ma porca puttana Cosa dovrei fare Questo visuale Che schifo Niente Dove sono i nemizi Che schifo Che schifo Che schifo Che schifo Che schifo Niente Niente Questa manumissione qua Che tentano di manometterci Costantemente Da che Qui Sono tentano di manomettione Non sono Veramente Analyze No Tantano di Una visuale Non posso più muovere il mouse Carca puttana Dove sono tentano di manometterci Con i droidi No Per forza Dargli a pod Alert Saturation Attack Triggered By Enemy Consciousness Data Failure To Destroy It Quickly May To Serious Damage In Memory Regions E Spiccano di Muovermi Sì Verlò Per Sì Perché Sì Bastarda Dai ho permesso di recuperire le robe Di fare queste cose in giro che vuole non mettere Ho provato a correre ma non ha funzionato Non era abbastanza Bombe Alla prendersi bombe Comunque Questa è più facile curarci Comunque Non si Io so Dobbiamo Assaltarla Fatta fatta Che puoi scappare Ok Ok Sto andando a fuoco Che è molto buono Oh cazzo Oh cazzo Maial che Che serie infinita di Di roba è a schermo Così 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 Di roba No ma Non è Sì Merda Non è proprio Facilissimo Ma per niente Vuoi crepare Ma che è quella roba Oh my god Oh my fucking god Una missione Non devo prendere danni nel corpo Se prendo danni lì Prendo danni anche nel corpo Oh porca toia Buono Questi minigame sono un po' Fuori di tal norma Forse si posa il mic Oh Spero che ci sono anche minigame veloci Quindi è buono Non c'è caso di non farci prendere quelle cose Perché Ok la possiamo danneggiare 3 damage Vai pozo Spara panico Danneggiamola Danneggiamola Dai che è quasi morta Oh cazzo È diventata una macchina bestie Immortale Addirittura Porca Purttana Ah Quanti bestie mi Ok ok No ma non ci sono adesso Devo curarmi Devo curarmi Ok Ok Devo scusere questo Non serve Per tutto ancora Uuuh Ok Abbiamo fatto il level up Ma ci hanno manomesso Vai pod Basta Basta va Bordini Tutti sono utili Tanto c'è una Mi immagino di non sapere le cose What a big boss Grazie ragazzi Grazie ragazzi Grazie per l'assist Oh Dimenticiamo il hack No worries Usi scanners Siamo abbastanza buoni A questo tipo di cosa Non è riuscito a niente Il boss Per terra da raccogliere Rola buona Recupero S Potenza di armi più tre Un altro recupero S Alla in fondo c'è qualcos'altro Potenza di fuoco più tre E direi che ci siamo Siamo dalla porta So What is it? That machine had some pretty weird things to say It's almost like it had actual emotion The machines don't have feelings You said that yourself Yeah I guess Invece Le biomacchine hanno emozioni Andando a contatto con gli umani Se non sformate con gli umani I am not hostile Io non è mico Eh? Voi sconfitto le biomacchine a guasta Noi si vuoi salvato noi This thing is awfully verbose For a machine We repay you Come to our village Va bene This one me lo aspettava Andiamo a bella It could be a trap Still We should at least head over there And gather data, right? Aspetta un attimo che vado a prendere quella roba lì E ci sono E ci sono Per la scala 200 guide Abbastanza 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 bello questo gioco Mi sta piacendo Mi sta piacendo Veramente molto E' molto diverso dal solito E' diverso da qualsiasi cosa Che abbiamo mai giocato Nonostante sia Un hack and slash Più o meno Più o meno puro Ah ok Mi hanno rifornimenti Direttamente E infatti dicevo Dove come le costruivano Quelle macchine Che ci mandano Poi Carro 3 Andiamo a casa Di queste biomacchine Va la Quindi perché non le macchine O gli alieni Che creavano Le attacchano il bunker Direttamente Sono originale Qui venivano Da l'interno Spesso Certo? Beh Ci sono Un po' teorie D'accordo Ma Niente Lo sa Certo È difficile Dicare Che un alieno Pensava Sì Sì Ok Questa parte L'abbiamo superata Abbiamo preso anche Tutta la roba Sul percorso Seguiamo sempre Quest'uomo Questa biomacchina Che ci accompagna Al suo villaggio Sul render Perché Hanno le bandierine bianche Le sventolano Villaggio Dalle macchine Il cappolavoro Sto gioco In ogni caso È come la storia Narrata Come al solito Non vogliono combattere Mettiamo a questo qua Dalle biomacchine Anzi no Aspettate Prima andiamo Direttamente A salvare Questo qua Ok Vediamo se abbiamo messaggi No Possiamo salvare E direi Che Questa boss fight Ci ha portati fino qua Nel campo delle biomacchine E per oggi Direi che è tutto Ragazzi Ci vediamo quindi Nella prossima puntata Con questo video In 347 Se vi è piaciuto Mi è piaciuto Iscrivetevi E ci vediamo domani Con una prossima puntata Bye Ciao a tutti 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 Ciao a tutti